L'Europa è oggi quasi come un'unica città, è un continente fatto di città grandi, medie e piccole e è molto importante far percepire in questi prossimi giorni che ci distinguono dal voto come il rapporto tra un cittadino e le elezioni debba essere un rapporto stretto e io credo che sia fondamentale far capire anche che in voto dei candidati che sono stati sindaci e che hanno un rapporto col territorio e che hanno saputo come Pino Cattizzone portare avanti delle politiche pubbliche importanti, innovative su questioni fondamentali come la scuola, il lavoro, la salute, sia un voto fondamentale. Io credo che affidarsi a un candidato che ha esperienza, che sa come si governa un territorio e che sente il rapporto tra il suo territorio e le grandi questioni che riguardano l'Europa perché poi si tratta di investimenti, si tratta di orientamenti complessivi sulle politiche e sul lavoro, sia un aspetto fondamentale. Pino è qua, io voterò Pino perché davvero sono convinto che sia bene valorizzare anche nel nostro partito le persone che hanno qualità, esperienza e coraggio.